per andare a fare la bling bling perché io bevo l'acqua rocchetta perché io sono l'intervento al cuore scuola quando il dino di gesto un po' mi chiuso un po' mi chiuso il livello e sentire le doro quando si appicciavano si studiavano e si appicciavano un bel di comando lupo al giù troppo di nuovo sotto ho detto ma perché questo è il mio angelo azzurro e almeno no non era mio angelo azzurro erano questi gli ufo e io praticamente ho chiamato il mio nonna e ho detto diamo un banolino perché io la pisce la faccio dentro lo letto a in giro a a a a a a a a a E' un po' di comando che non sarebbe un indicato di tirare un'escarga e invece fare un'esmerdata a me. Cazzo!